Di Dino Buzzati, gruppo fotografico, voce di Lorenzo Pieri. Rappresenta le allieve della seconda classe del collegio Cesarini, riunite nel cortile. La vecchia l'ha trovata per caso in fondo ad un cassetto e si diverte ad esaminarla. C'è anche lei naturalmente in prima fila con le trecce, le sue compagne. Credeva di averle perdute per sempre e invece eccole là tra le sue mani, disposte in tre file scalarmente e non possono sfuggire. Sentiamo tu la sua destra, la prima, in piedi sulla sedia. Ah, sei tu Ada, sì tu. Dimmi perché sorridi. Non saprei signora perché sorrido, ma tutte sorridiamo, tutti sorridono quando ci si fa la fotografia. Come fai a sapere delle altre? Tu non le vedi, ti voltano le spalle. Potrebbe darsi che nessuna sorrida, ma soltanto tu per quello che ne sai. Ho paura piuttosto che tu sia una sciocchina, Ada. Scommetto che la tua compagna al fianco mi darà una risposta più sensata. Sì, tu, Rosetta, mi vuoi spiegare perché adesso sorridi? Io? Oh, è così buffo farsi fotografare. Mi viene da ridere perché siamo qui, tutte in posa, tutte vestite in ordine. Sembriamo tante signorine. Chissà che effetto nella fotografia. E tu, Robertina, perché sorridi? Anche a te pare così buffo? Non so, ma sempre nelle fotografie bisogna sorridere, l'ho sentito dire. Forse è per dare più buona impressione. Gli altri, vedendo, penseranno che sia felice e contente. Insomma, se si hanno dei dispiaceri, è meglio tenerseli per sé. I dispiaceri, i dispiaceri, che parola grossa. E tu, Lucetta, mi sapresti rispondere perché sorridi? Se vuol proprio saperlo, signora, mi è venuto da ridere pensando alle orecchie della Paola, quella che in terza sa. Noi ci abbiamo fatto l'abitudine, ma chissà come verranno fuori in fotografia a quelle due ventole. Sorridete tutte per poco, a quanto pare. E tu, bella Cristina, mi vuoi dire perché sorridi? Oh, signora, qui c'è la Franca che mi scherza. Ti scherza come? Mi dà di gomito, cerca di farmi fare le smorfie, mi dà dei colpi col gomito. Tu, sei tu che mi dai dei colpi. Signora, non le creda, è la Cristina che ha cominciato a farmi le boccacce. Basta, basta. E tu, piuttosto, ti chiami Palometta, se non sbaglio. Sì, mi vuoi dire perché sorridi? Scusi, signora, e a me perché mi ha saltato? Perché a me non mi domanda niente? A te no, perché di no. Non sono mica obbligata a interrogare tutte. E poi tu, Luisa, non mi sembra mica che tu sorrida troppo. Sì che sorrido anch'io. Beh, insomma, adesso voglio che mi risponda Palometta. Perché dunque sorridi, Palometta? Sorrido perché è festa, e poi è finita la scuola, e si va in vacanza, e poi fa caldo, e io non ho più i geloni. Io soffro tanto di geloni. E tu, Sofia? Io non sorrido, signora, ho la bocca fatta così, ho la pelle delle labbra tirata così che faccio vedere i denti. La mamma mi dice che non importa e che sono carina lo stesso, ma queste qui, le mie compagne, mi chiamano, mi chiamano... Coraggio, com'è che ti chiamano? Mi chiamano Cadaverin, Teschietto, Faccia de Morte. Ecco come mi chiamano. E tu, Maddalena, Contessina, se non sbaglio, sorridi o non sorridi? Eh, mi guardi, signora, deve giudicare lei se sorrido. Non vedo, c'è una macchiolina che ti nasconde proprio la bocca. La cancelli, signora, così vedrà se sorrido o no. Non si può cancellare, avrà almeno cinquant'anni questa macchiolina, quasi vecchia come me, perché io sono vecchia. E allora, coraggio, bambine, non mi avete ancora riconosciuta. La nuova direttrice? Ma che direttrice? Una di voi sono. La Luisa sono. Non le assomiglio proprio niente? Sono la Luisa, ecco, e mi ricordo di tutte voi. Sorridete? Ah, sorridete. Ma lo sapete o no quante di voi sono ancora vive oggi? C'è qualcuna che lo vuol sapere? Tacete? Avete dunque paura di saperlo? Ve lo dirò allora. In quattro siamo rimaste di trentotto che eravamo. Luisa, senti, io ti ho regalato una borsettina di cuoio, ti ricordi? Dimmelo almeno a me, Luisa, dimmi. Io sono ancora viva? Sicuro che mi ricordo, cara Maddalena, la borsettina. Ma poi, a diciotto anni, hai anche cercato di soffiarmi il fidanzato, vero? Proprio per questo voglio accontentarti. Sì, tu sei morta, da un bel pezzo, morta e sepolta. Da un pezzo? Perché da un pezzo? Sono più di quarant'anni, se lo vuoi sapere, che sono stata ai tuoi funerali, e non erano niente di speciale, te lo giuro. Difterite. Signora, signora, basta, ci lasci stare, oggi che è festa. Perché è venuta a dirci queste cattiverie? Ah, non ti manca l'impertinenza, eh, Graziella? Hai paura. Però andavi a fare la spia dalla maestra, andavi. Ci avevi gusto a vederci castigate. Senti, allora, proprio tu. No, no, stia zitta, signora, io non voglio sapere niente. Io mi chiuderò le orecchie. E come? Non puoi. Sei fotografata con le braccia in giù, non puoi portare le mani alle orecchie. No, no, signora Luisa, la prego, stia zitta. E invece, ecco, così impari a fare la spia. A ventisei anni tu sei morta. Cameriera presso una certa famiglia Melloni. Mi ascolti? Eri l'amante di uno dei ragazzi, morta di tifo all'ospedale. Pressa poco come un cane, capisci? Sorridi ancora. Andiamocene, andiamo via, che questa strega la smetta. Corriamo a chiuderci in camerata. Andare via. Ma se non potete muovervi neanche di un millimetro. Siete fotografate, siete. Come tante statuine, inchiodate una vicino all'altra, in fila. E adesso, una per una, vi istruirò sui fatti vostri che non sapete ancora. Sulle vostre sudice cose. Sulle disgrazie che vi capiteranno. Vi dirò di che cosa siete morte. Ah, mi divertirò un poco. Dite, bambine, non vi ricordate quel mio vestitino rosso, come mi stava bene? Non vi ricordate la gita alla certosa? Che cosa è rimasto di tutte quelle risate? Si rideva, vero? Bastava un niente. Sola, al freddo, in questa soffitta maledetta. Senza una creatura che mi badi col mal di cuore, povera, senza più denti. ignobile a vedersi, ecco, la Luisa. E non ho sonno, e la notte è lunga, e nessuno verrà a trovarmi. Oh, lasciate che mi consoli, raccontandovi come siete morte.